Buongiorno a tutti, mi chiamo Marco Geller e sono candidato per la lista Autonomie per l'Europa. Il nostro progetto politico nasce in Valle d'Aosta, ma ha l'ambizione di rappresentare a livello europeo tutte le minoranze, che siano essi linguistiche, etniche o religiose, presenti nel nord-ovest d'Italia e tutte quelle aree marginali che fino ad oggi non sono riuscite a essere rappresentate a livello comunitario. Sto pensando alle grandi periferie delle città o anche tutte le vallate alpine, dalla Val Camonica alla Valtellina a tutte le vallate piemontesi. Crediamo infatti che queste comunità ad oggi non facciano parte e non siano parte attiva nel percorso di integrazione europea e noi appunto nasciamo proprio per questo, per cercare di colmare il gap culturale e politico che c'è tra le nostre comunità e il livello europeo. Crediamo che tutte le sfide del futuro siano affrontabili solo da un'Unione europea unita, quindi dalle cambiamenti climatici alla gestione delle politiche migratorie. Sono temi talmente complicati, talmente complessi e talmente globali che solo attraverso un'Unione europea unita si potranno affrontare. Crediamo però che questa Unione europea così com'è non vada bene e vada pesantemente riformata. Ad oggi quando si parla di Europa si parla come un insieme di nazioni in cui ancora adesso le capitali e i grandi stati nazionali hanno la sopravventura su tutte le comunità. Il nostro progetto è rovesciare completamente questo livello e far sì che tutte le comunità europee si sentano rappresentate e siano parte attiva del processo decisionale e legislativo a livello europeo. Vorremmo infatti che tutte le comunità si sentano appunto parte attiva. Quindi un voto per l'autonomia e per l'Europa e un voto per il nostro futuro e per tutti i territori. Sono Dieter Steger, senatore dell'SVP, partito autonomista dell'Alto Adige. L'SVP che da sempre governa questo territorio, è un territorio che ha un tenore di vita alto e anche è caratterizzato di pace sociale. Noi da sempre ci impegniamo in Europa con un nostro membro del Parlamento europeo. Vogliamo farlo anche in futuro. Noi ci impegniamo soprattutto per valorizzare i territori, per valorizzare le minoranze culturali e linguistiche, per valorizzare le parti montane dell'Europa. Noi ci impegniamo anche per contrastare la burocrazia in Europa. Questo sarà il nostro impegno. Noi da sempre siamo europeisti, sappiamo che l'Europa deve anche cambiare, ma sappiamo anche che l'Europa ci ha dato per 70 anni pace e benessere. E quindi noi riteniamo che l'Europa ha ancora un potenziale enorme. Noi riteniamo che bisogna superare i nazionalismi, i nazionalismi non portano a niente. E bisogna invece valorizzare i territori all'interno dell'Europa. Questo impegno noi vogliamo darlo con la concretezza che ci caratterizza da sempre. Abbiamo un candidato che da dieci anni ci rappresenta in Europa e chiediamo agli elettori della circoscrizione nord-est di apporre la loro croce al simbolo della stella alpina SVP. Se ci pensate bene è bastata la semplice presenza di un simbolo animalista, di un loghetto animalista, per far diventare di improvviso tutta la politica italiana animal friendly. E c'è movimenti, forse politiche, che sino a ieri facevano l'inneggio della caccia e degli animali nei circhi come delle tradizioni culturali. Magari mentre mangiavano anche la pelle dell'urso, d'improvviso ecco che fanno foto con cani, però degli altri, promettono leggi che però non hanno mai fatto, d'improvviso sono tutti amanti degli animali. La cosa non può farci che piacere, anzi questo fa pensare che se un simbolo animalista ha portato a tutto questo, immaginate quando ci saranno dei deputati animalisti cosa potrà succedere. Però, come si suol dire, c'è il classico detto diffidate dalle imitazioni. E c'è, se avete a cuore il benessere degli animali, che di riflesso salvaguardia l'ambiente e ancora più di riflesso fa gli interessi dei noi uomini, ricordatevi, chi a livello europeo e in Italia ha a cuore la salvaguardia delle specie, l'interesse della natura, i nostri interessi, un esempio su tutti sono sempre gli allevamenti intensivi che finiscono sul nostro piatto e quindi tutelando gli animali e la natura si salvaguardano gli uomini, e quindi insomma entrare e pensare a questo movimento animalista. Movimento animalista che può sembrare riduttivo, ma comprende appunto chi ha a cuore la tutela dei nostri animali d'affezione, riteniamo di fatti scandaloso il prezzo dei prodotti veterinari e riteniamo che debba essere tutelato anche da un punto di vista fiscale i nostri amici a quattro zampe e chi nello stesso movimento ha a cuore i diritti dell'ambiente. Per cui chi ha un cuore animalista sa che il 26 maggio può votare Partito Animalista. Il progetto europeo oggi è prigioniero di grandi contraddizioni. Da un lato all'interno dell'Unione Europea non esistono più le frontiere e possiamo andare da Lisbona a Varsavia senza mostrare il passaporto. Dall'altro, paradossalmente, le frontiere esterne sono ancora competenza nazionale e quindi se succede un guaio per esempio fuori dalle acque italiane, i problemi sono tutti dell'Italia. Come fare per sanare queste contraddizioni? Dobbiamo avere il coraggio di affrontarle e di guardare a una dimensione nuova del progetto europeo che ci apra a una competenza federale. Che cosa vuol dire competenza federale? Vuol dire avere una politica estera comune, vuol dire avere una politica di difesa comune che ci consenta finalmente di respingere i pericoli che arrivano dall'esterno e di abbracciare con sorsa i bisogni di chi è all'interno. È una situazione che ci mostra un'Europa incompiuta, ma non un'Europa irragionevole, non un'Europa che non sia il nostro bene per il futuro. Dobbiamo scommettere insomma sul destino di una generazione e possiamo farlo attraverso il voto alle elezioni europee, puntando su quei partiti che, come i popolari per l'Italia, ci presentano un simbolo nuovo, la freccia tricolore, ma una storia che viene da lontano, quella storia collegata al Partito Popolare Europeo che il bene dell'Europa l'ha sempre voluto. E allora votiamo il 26 di maggio i popolari per l'Italia. Scommettiamo su questa famiglia che vuole tenere insieme chi vuole il bene dell'Europa e l'Italia che torna ad essere protagonista in Europa. Votiamo e facciamo votare popolari per l'Italia. Il Partito Pirata nasce in Svezia nel 2006. In pochi anni abbiamo conquistato la Slovacchia, la Germania, l'Islanda, la Svezia stessa. Quest'anno per la prima volta ci presentiamo alle europee anche in Italia e ci presentiamo con un programma condiviso da 13 partiti pirata di 13 nazioni diverse. Un unico programma per tutta Europa. Siamo l'unico partito che presenta un programma per tutta Europa. Un programma che spazia, veramente spazia in tanti punti, dall'ecologia ai viaggi spaziali, dalla privacy al copyright. Il tema che mi è più caro, forse, è quello dei diritti dei disabili. Perché? Perché anch'io sono una disabile. Io sono una disabile invisibile. Tante volte potete aver visto una persona che esce da un bagno disabili e non è in carrozzina. E dite, ma quella persona avrà diritto a stare lì? Magari la giudicate anche. In realtà sono tante le patologie che provocano la necessità di avere dei servizi che siano sempre disponibili, sempre fruibili, sempre puliti e con dei piani d'appoggio. Questo perché per poter viaggiare, per poter vivere tranquillamente, dobbiamo avere a disposizione dei servizi di questo tipo. In Svizzera, in Germania, in Austria, in Repubblica Ceca, ci sono già dei servizi che ci aiutano nei movimenti. Questo servizio si chiama EuroKey, ma è lasciato al buon cuore delle donazioni dei privati e delle fondazioni private che si occupano di gestirlo. Questa è una chiave che banalmente apre tutti i bagni disabili, tutti i servizi disabili, gli ascensori, eccetera, che in questo modo rescono sempre fruibili. Il partito Pirata difende i diritti di tutti i disabili, che dovrebbero sempre avere un diritto di rappresentanza e che gli altri partiti spesso dimenticano. Per questo, il 26 maggio, pensate Pirata! Centinaia di migliaia di giovani in queste ultime settimane e giorni sono scesi in piazza per protestare e chiedere politiche radicali contro il cambiamento climatico. Sono i nostri figli, a loro dobbiamo prestare ascolto. La proposta di Europa Verde è una proposta, ancora prima che politica, una proposta etica e morale che guarda al futuro contro gli egoismi del presente di chi in questo momento, nella politica italiana, litiga, fa finta di litigare, ma non pensa al futuro dei nostri giovani, dei nostri figli. La nostra proposta è una proposta di costruire una politica energetica 100% rinnovabile per ridurre l'inquinamento, dare posti di lavoro attraverso la green economy, costruire ad esempio politiche di efficienza energetica per risparmiare l'energia, ma costruire ad esempio una politica sull'agricoltura sostenibile e biologica che liberi il nostro cibo, il cibo che arriva nelle nostre tavole dai veleni, dai pesticidi, perché noi vogliamo che la sicurezza alimentare sia garantita a tutti i cittadini e le cittadine italiane. Queste sono le grandi sfide, sfide importanti, come quella di rottamare il motore a scoppio che inquina, pensate, l'Agenzia Europea per l'Ambiente, dice che 80 mila persone ogni anno muoiono a casa dell'inquinamento, 40 miliardi di euro sono i costi economici e sociali ogni anno dell'inquinamento, e allora è necessario cambiare, cambiare si deve, è una risposta etica, dobbiamo farlo per il futuro delle generazioni che verranno. Noi siamo legati alla grande famiglia dei verdi europei e vogliamo portare in Italia i grandi successi che i verdi in Europa hanno raggiunto, modificando, condizionando positivamente le politiche economiche di quei paesi. Ecco perché votare Europa Verde è necessario, ma votare Europa Verde significa pensare al futuro dei nostri figli. Oggi gli italiani devono votare Forza Nuova, perché Forza Nuova è l'unico movimento politico che intende realmente uscire dall'Unione Europea, è l'unico movimento rivoluzionario che intende per davvero spezzare le catene di Bruxelles. Non perché odiamo l'Europa, noi ci sentiamo e siamo profondamente europei. Abbiamo sempre avuto in amore i miti greci, lo spirito del legionario romano, la figura del cavaliere medievale, l'Europa della civiltà, e proprio per questo abbiamo invece sempre combattuto questa Europa, fatta di banchieri e di massoni, l'Europa della BCE, delle grigie commissioni che intendono decidere il destino dei popoli, quali si devono inginocchiare e quali no. Contro questa Europa abbiamo sempre combattuto e continueremo a combattere, e proprio per questo sappiamo che l'unica soluzione è uscire dall'Unione Europea. L'Italia deve essere padrona del proprio destino, deve poter aiutare concretamente, con aiuti economici, le famiglie, le famiglie in difficoltà innanzitutto, ma tutte le famiglie, tutti quei giovani che vogliono mettere su famiglia e crescere dei bambini. L'Italia deve oggi, senza nessun tipo di problema, poter espellere tutti gli immigrati che in Italia non ci devono stare, ma soprattutto l'Italia deve poter stampare propria moneta. Proprio per questo siamo contro l'Euro e intendiamo fare in modo che si ritorni ad essere sovrani monetariamente. Per questo oggi tocca agli italiani, come cent'anni fa devono rialzare la testa, come cent'anni fa per la terra che gli ha dato i Natali e per il sangue che gli scorre nelle vene devono riprendere coraggio e oggi devono votare Forza Nuova. Domenica 26 maggio si vota per le elezioni del Parlamento Europeo. È un appuntamento elettorale al quale siamo abituati da un po', ma quest'anno è più importante del solito, è più importante perché ogni voto conterà ed il tuo voto conterà. Semplicemente perché noi vogliamo che l'Europa ritorni ad essere il sogno che era una volta, piuttosto che perseguire l'idea che un'Italia chiusa in se stessa possa, con un po' più di protezione, limitare le libertà. Quando diciamo più Europa, noi intendiamo più democrazia, più partecipazione dei cittadini, più protezione dei diritti ed in qualche modo anche molte più opportunità per coloro che devono essere in grado di sfruttare la mobilità come un'occasione di rafforzare le proprie competenze e poter tornare in Italia, tornare nei propri territori ed accompagnarne lo sviluppo. Quando diciamo più Europa, diciamo anche più sostenibilità ambientale. Diciamo un mercato unico del lavoro ed un mercato unico digitale per le imprese che si emancipano nell'innovazione. e diciamo più Europa anche per rafforzare l'Italia, perché l'Italia è più forte in un'Europa più unita dal momento che la globalizzazione, le grandi potenze, le grandi multinazionali possono mettere in discussione l'evoluzione e lo sviluppo di un piccolo paese di 60 milioni di abitanti. E lasciatemi dire che quando diciamo più Europa diciamo anche più Sud, più Sud Italia, perché le regioni del Mediterraneo che sono state troppo spesso considerate il fanalino del processo europeo possono tornare ad essere importanti anche per i problemi che confrontano in questo momento ma allo stesso tempo le opportunità che possono portare. E da allora noi diciamo proviamo a rimettere l'Europa in mano ai cittadini. Riprendiamoci l'Europa e riprendiamoci il futuro. La vera forza sovranista che si presenta alle prossime elezioni europee è Casa Pound. Tutti gli altri hanno abbandonato quella che è la battaglia per l'uscita dall'Europa e per l'abbandono dell'euro e oggi dicono che l'Europa si può cambiare dall'interno. Casa Pound Italia è rimasta coerente e chiede ancora oggi di tale exit. Uscire da quest'Unione Europea e abbandonare l'euro. Perché uscire da quest'Unione Europea? Perché l'Unione Europea è una gabbia. L'Unione Europea è un peso. L'Unione Europea è quella che ci ha imposto a austerità, pareggio di bilancio e ci ha resi il più grande centro profughi d'Europa. Questo grazie anche all'aiuto dei vari governi scellerati italiani che si sono succeduti negli anni. Fuori dall'Europa è possibile per l'Italia rinascere, fare dei nuovi accordi, creare uno sviluppo economico, fare in modo che l'Italia possa rinascere dal punto di vista proprio monetario e non solo. Infatti ristampare quella che è una nostra moneta, una moneta che sia italiana permetterà all'Italia di poter rilanciare anche l'economia. Qual è il problema oggi reale dell'Unione Europea? Il fatto che l'Unione Europea non risponda agli interessi nazionali ma risponda a quelli che sono gli interessi di burocrati e di finanza. Noi contro tutto questo ci battiamo da anni e il Casa Pound torna ancora a queste elezioni a chiedere questo, ossia la libertà di tornare a essere sovrani, di poter garantire ai cittadini italiani quella che è una vita dignitosa, che è possibile solo con un vero rilancio economico e anche dal punto di vista dell'immigrazione non lo dice nessuno ma per poter rimpatriare tutti gli immigrati e clandestini che sono parcheggiati in Italia da anni è possibile farlo solo se l'Italia fa degli accordi bilaterali con i paesi di provenienza. Pertanto non credete a chi dice che l'Europa si cambia dall'interno perché l'Europa non la si può cambiare e bisogna soltanto uscire da quest'Unione Europea. E per farlo dovete votare il 26 maggio per la libertà e votare Casa Pound. Domenica 26 maggio si voterà per le elezioni europee. Vi hanno parlato spesso di Europa in quest'ultimo periodo però forse bisognerebbe distinguere tra quello che vi dicono e quello che poi accade veramente. Qualcuno ha proferito il fatto che l'Europa sia stato un processo sbagliato un errore tecnico che si sia privilegiata la finanza le banche l'economia rispetto alla politica la gente i popoli. io credo che invece tutto ciò sia stato frutto di un piano preordinato ed è per questo che il Partito Comunista è contro l'Europa contro l'Unione Europea contro questa formazione sovranazionale che determina i destini di tutti i singoli nella loro vita quotidiana. L'Europa ci dicono che è per la pace in realtà è per la guerra abbiamo visto quello che è successo in Libia abbiamo visto quello che sta succedendo in Siria ci dicono che per il lavoro da quando c'è l'Unione Europea le leggi sul lavoro sono peggiorate i diritti sono diminuiti ci dicono che per l'agricoltura da quando c'è l'Unione Europea specialmente l'agricoltura italiana viene messa a serio pericolo e questa Europa pare di sinistra ci dicono anche che la sinistra voglia questa Europa mai così tanto ha sbagliato la sinistra perché da quando strizza l'occhio all'Europa di fatto strizza l'occhio alle banche alla grande finanza alle multinazionali ed è per questo che noi come Partito Comunista vogliamo chiarire queste cose sull'Europa e siamo contro l'Unione Europea contro l'Euro e contro la sua struttura militare che è la Nato pertanto domenica 26 maggio vi chiediamo a voi lavoratori cittadini ai tanti giovani che ci guardano con attenzione di votare comunista vota Partito Comunista l'Europa che abbiamo immaginato era un sogno un continente libero e unito nutrito di comuni radici e cultura in grado di competere alla pari con gli Stati Uniti con la Russia e con la Cina invece quella che hanno costruito è un'Europa che è un mostro che è un incubo dominata da élite burocratiche tedesche e francesi dominata dalla Merkel e da Macron l'Europa che hanno voluto è lontanissima dalle speranze delle aspettative e persino dalla sofferenza della gente comune dei lavoratori e delle imprese è un'Europa che si riempie la bocca di amicizia di solidarietà ma che poi abbandona l'Italia sul destino quando deve fronteggiare l'emergenza immigrazione clandestina della Libia ecco perché noi siamo sovranisti perché intendiamo sempre innanzitutto difendere l'interesse dell'Italia e degli italiani e chiediamo un voto per Fratelli d'Italia per il progetto di un polo conservatore nazionale voluto da Giorgia Meloni chiediamo un voto per l'unico partito di destra che non ha fatto accordi né ieri con il Partito Democratico né oggi con i Cinque Stelle un voto per Fratelli d'Italia e anche per staccare la spina a questo governo che litiga tutti i giorni ogni giorno su qualsiasi argomento forse perché non è in grado di spiegare perché le tasse sono aumentate anziché diminuite e forse perché non è in grado nemmeno di spiegare come intende evitare l'aumento dell'IVA che sarebbe un disastro per i consumi e per l'economia un voto per Fratelli d'Italia quindi un voto utile due volte per cambiare tutto in Italia e per cambiare tutto in Europa il 26 maggio alle elezioni europee potete votare per popolo della famiglia alternativa popolare perché farlo siamo una delle tante liste di quelle piccoline ma dare forza a popolo della famiglia AP significa dare forza all'unica lista presente sulla scheda elettorale che si rifà esplicitamente al partito popolare europeo perché lo vedete scritto sul simbolo solo sul nostro simbolo e si rifà all'ispirazione cristiana del popolarismo stursiano se volete far tornare ad essere protagonisti cristiani in politica popolo della famiglia AP è la scelta che potete compiere per una piattaforma di proposte molto chiara prima di tutto sostegno alla famiglia naturale prima di tutto reddito di maternità per battere la prima piaga italiana ed europea che è la denatalità la vera e propria peste bianca d'Europa contro la cultura della morte dell'aborto dell'autanasia che dal nord Europa vorrebbero far piovere anche nel nostro paese e poi una Europa più democratica con la Commissione europea eletta con tutti i suoi membri direttamente e una grande importante lotta una guerra vorrei dire alle dipendenze droga alcol gioco d'azzardo pornografia prostituzione altro che legalizzarla rispetto per le persone a partire dai più giovani dai più deboli dagli affaticati e un grande grande piano per la famiglia e la natalità con questo si batte la peste bianca d'Europa il 26 maggio in cabina elettorale fai la scelta che è cristianamente ispirata legata alle radici cristiane d'Europa vota popolo della famiglia alternativa popolare il 26 maggio abbiamo tutti una grande occasione quella di cambiare volto all'Europa di renderla madre e non più matrigna delle nostre esigenze di tutti i giorni in Europa si giocano partite importantissime c'è bisogno di una politica estera comune che fermi l'avanzata della Cina c'è bisogno di una politica militare comune che ci protegga dall'ondata migratoria e dal pericolo del terrorismo Silvio Berlusconi è la persona ideale per combattere questa giusta battaglia di difesa dei vostri interessi chi più di lui già nel 2011 proteste l'Italia e i suoi interessi da un'Europa che voleva commissariarci rimandiamo Silvio Berlusconi tra i piedi di quei burocrati miopi che fanno da scudo un'Europa che invece va cambiata ma il 26 di maggio abbiamo un'altra grande occasione un altro buon motivo per andare tutti quanti a votare diamo un avviso di sfratto a un governo quello italiano che ha alzerato la crescita polverizzato posti di lavoro aumentato le tasse e che non fa nulla per farci stare meglio il 26 di maggio l'unico voto utile è quello per Forza Italia chi vuole più centrodestra al governo ma senza inciuci con i grillini ha un solo voto a disposizione quello per Forza Italia e allora il 26 di maggio di la tua vai a votare e scegli Forza Italia barra con una croce il simbolo di Forza Italia e mi raccomando accanto scrivi sottolineo scrivi Berlusconi il 26 di maggio dacci una mano a darti una mano in tutta Europa le donne guadagnano meno degli uomini hanno accesso a lavori più precari e hanno sulle spalle la maggior parte del lavoro di cura questo avviene anche perché i servizi pubblici come gli asili sono stati tagliati in seguito a politiche che hanno privilegiato la concentrazione della ricchezza solo in Italia circa 80 donne al giorno devono rinunciare devono scegliere tra la maternità e il lavoro lasciando il lavoro sono disuguaglianze e discriminazioni che non possono essere affrontate se non si affronta la disuguaglianza economica il nostro programma intende redistribuire la ricchezza perché ci dicono che i soldi non ci sono invece i soldi ci sono l'Europa è un paese ricco l'Italia è un paese ricco vanno redistribuiti come attraverso un sistema di tassazione equo attraverso il fatto che le imprese paghino le tasse lì dove si stabiliscono attraverso una patrimoniale solo sopra i grandi patrimoni quindi solo sopra il milione di euro solo in Italia attraverso una patrimoniale si potrebbero recuperare circa 25 miliardi all'anno che potrebbero essere utilizzati appunto per costruire asili è stato dimostrato che gli asili si pagano da soli una volta che si sono aperti perché creano lavoro danno lavoro per fare questo però è necessaria una politica diversa in Europa noi la sinistra siamo in alternativa sia alla destra sia al centro-sinistra che di fatto in questi anni ha secondato le politiche economiche che hanno portato al taglio dei servizi e perciò il 26 maggio vi invitiamo a votare la sinistra domenica 26 maggio si voterà per il rinnovo del Parlamento europeo noi della Lega chiediamo un forte mandato da parte dei cittadini perché abbiamo bisogno di essere rappresentati in Europa con una grande compagine abbiamo bisogno di mandare su persone che facciano finalmente gli interessi di questo Paese che praticamente facciano una cosa che difficilmente è stata fatta in passato abbiamo l'obbligo sentiamo dentro di noi la forza di andare su a ricordare che questa Europa deve cambiare completamente soprattutto deve ritornare come c'era stata promessa sì avete capito bene c'erano state promesse altre cose era stata promessa un'Europa che metteva i cittadini metteva l'economia reale metteva quella economia che faceva marciare il Paese al centro d'attenzione invece ci siamo ritrovati un'Europa alla fine che ha dato solo e esclusivamente aiuto ai grandi gruppi alle multinazionali al sistema finanziario alle banche e che ha provocato enormi disastri proprio sulla pelle dei cittadini ebbene noi della Lega andremo su per ricordarglielo andremo lì con forza con competenza ma soprattutto con la determinazione di fare un grande servizio al nostro Paese e soprattutto per il bene dei nostri figli daremo tutto l'ausilio possibile ai territori cioè quelli che non sono stati ancora ascoltati andremo lì con la consapevolezza forte determinata di aiutare le nostre imprese di aiutare il Made in Italy quello di cui noi siamo sempre fortemente orgogliosi e che ultimamente purtroppo non ha avuto nessun riscontro da parte dell'Unione Europea ce la faremo senz'altro questa volta se non ce la faremo sarà la fine per tutti nella piena consapevolezza che un'Italia forte vuol dire un'Europa forte mentre invece un'Italia debole vuol dire un'Europa debole vi prego fortemente di andare a votare domenica ne va del futuro dei nostri figli grazie tanti di noi italiane ed italiani vivono sentimenti di rabbia di sbarrimento di paura ci sono due modi per affrontare questi sentimenti quello di chi soffia su questa paura per strappare qualche voto e quello di chi come il Partito Democratico vuole affrontare e risolvere i problemi delle persone per questa ragione noi vogliamo un'Europa più vicina alle persone alle donne agli uomini e ai giovani e per questa ragione noi vogliamo che l'Europa cambi vogliamo un sussidio unico di disoccupazione perché immaginate se a casa di una donna che ha perso il lavoro arrivasse un assegno di 500 euro e si toccasse con mano la vicinanza dell'Europa a quella persona a tutte le persone che soffrono noi chiediamo una misura che impedisca la concorrenza sleale tra le imprese e che obblighi le imprese a spostarsi in altri paesi dell'Unione Europea perché i costi magari sono più bassi noi vogliamo la riconversione ecologica delle imprese italiane ed europee per consentire ai nostri figli e al futuro della nostra Europa di essere più verde noi riteniamo che la sfida europea sia la sfida più importante noi vogliamo un'Europa più utile più conveniente più giusta per questa ragione il 26 di maggio andrò a votare andiamo a votare per il partito democratico per il futuro dei nostri figli delle donne di oggi e di domani da questo schermo nell'ultimo anno vi hanno ripetuto ogni giorno che i vostri risparmi non erano al sicuro che eravamo in recessione che il movimento al governo stava danneggiando il paese vi do una buona notizia gli ultimi dati istat dicono che non è così era solo una grande fake news l'economia ha ricominciato a crescere la disoccupazione diminuisce e i posti di lavoro stabili aumentano più che nel resto d'Europa grazie al decreto dignità è un primo passo ma si inizia a cambiare sul serio oggi più che mai è necessario andare avanti dobbiamo continuare per cambiare andare a far valere le nostre proposte le nostre ragioni in Europa per migliorare la vita degli italiani dobbiamo sostenere le famiglie e il ceto medio come si fa in altri paesi europei dobbiamo introdurre un salario minimo orario per tutti i lavoratori perché una paga di 2-3 euro all'ora è uno sfruttamento dobbiamo pesare di più a Bruxelles per smetterla con l'Europa dell'austerità lacrime e sangue e iniziare a investire nei settori produttivi in ricerca e distruzione per non far più partire i nostri giovani anzi dobbiamo far tornare quelli che sono scappati dobbiamo lottare anche contro la grande evasione delle multinazionali e far pagare le tasse in Italia così potremo far pagare meno agli italiani per farlo abbiamo bisogno del tuo sostegno il 26 maggio vota Movimento 5 Stelle e scegli di continuare per cambiare anche in Europa